Il tema di oggi è particolarmente rilevante per chi come noi della FAO lavora per promuovere un sviluppo economico sostenibile, eco e inclusivo. L'innovazione sociale, ambientale, finanziaria e tecnologica può funzionare se integrata e compatibile con la gestione sostenibile delle risorse naturali e con il benessere della società umana. Questo è anche uno dei temi al cuore del processo in corso in questi mesi a New York sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come sappiamo, i futuri obiettivi di sviluppo e sostenibilità dovranno comprendere una dimensione economica, ambientale e sociale ed essere applicabili a livello globale e quindi riunire gli interessi comuni dei Paesi industrializzati, emergenti e in via di sviluppo. La FAO, insieme a altre agenzie ONU basate a Roma, è impegnata a sostenere gli Stati membri dell'ONU per arrivare ad una agenda per lo sviluppo post-2015 che sia concretamente universale, equa e che porti ad un cambiamento e ad un futuro di prosperità e dignità per tutti, con un diritto a un'alimentazione adeguata e a una migliore nutrizione. E li raccordo la seconda conferenza mondiale della nutrizione del novembre prossimo qui alla FAO. In particolare, i nuovi obiettivi dovranno mirare a un mondo in cui nessuno debba più soffrire la fame cronica e la malnutrizione, perché sappiamo che non ci può essere sviluppo sostenibile se non eliminiamo la fame dal mondo e quindi crediamo che incorporare questo principio nell'agenda post-2015 garantirà risultati più concreti nella lotta alla fame e alla insecurezza alimentare. In questo processo, la FAO punta a sottolineare il grande potenziale delle risorse naturali per lo sviluppo e che la loro gestione sostenibile, in particolare di quello forestale e di quello montano, è fondamentale non solo per proteggere il pianeta, ma per promuovere lo sviluppo e sostenere il benessere dell'umanità. Le foreste e le montagne possono essere dei driver importanti di sviluppo economico e sociale, come dimostra il contributo che danno al PIL in quei paesi dove sono state valorizzate. La FAO ha organizzato, insieme con molti Stati membri, da cui l'Italia, una serie di eventi sulle montagne e le foreste per aiutare a definire targets e gli indicatori per raggiungere gli obiettivi sostenibili e monitorare il progresso del 2015 a 2030. E nei prossimi mesi continueremo a lavorare mettendo a disposizione la nostra esperienza e conoscenze tecnico-cientifiche per assicurarci che la strada verso 2030 sia un vero cammino di sviluppo universale. Questo incontro è oggi un'occasione per ampliare il dialogo su CIO che possiamo imparare da comunità come quelle montane per muoverci verso un futuro sostenibile. Vivendo in zone spesso inospitali, poco produttive e esposte a eventi naturali, la comunità montana ha, attraverso i secoli, sviluppato grandi capacità di adattamento ai cambiamenti globali, inclusi quelle climatici, sviluppando pratiche tradizionali ancora oggi valide e rimanendo aperte all'innovazione. Per proteggersi dai rischi legati al clima, tradizionalmente il sistema produttivo nelle zone montane è basato sulla diversificazione delle fonti di reddito. Le famiglie si dedicano all'agricoltura e all'allevamento e al tempo stesso sfruttano le risorse delle foreste e hanno attività commerciali, di turismo e artizionali. In generale, l'agricoltura è la principale attività economica e praticata con sistemi che proteggono la agrobiodiversità, contribuiscono alla lotta contro la desertificazione e la degradazione del suolo, spesso è un'attività bassa emissione di CO2. Anche le foreste, la pesca e l'allevamento contribuiscono all'economia delle comunità di montagna. Il rapporto delle popolazioni montane con il territorio, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'equilibrio tra le conoscenze tradizionali e la capacità di adattamento ai cambiamenti sono tutte caratteristiche che le rendono più resilienti rispetto alle popolazioni che vivono nelle città o in altri ecosistemi. Inoltre, i prodotti di montagna presentano delle caratteristiche quali alta qualità e alto valore, produzione sostenibile, rapporto con il territorio, che possono essere molto interessanti per i mercati, contribuendo a migliorare il reddito delle comunità montane. Il 2014 è l'anno dell'agricoltura familiare, che è il sistema produttivo rilevante nelle zone montane di tutto il mondo ed è un modello che garantisce sostenibilità e equità se è adeguatamente sostenuto da politiche appropriate e da investimenti. In montagna, dunque, le opportunità di sviluppo ci sono e ci sono anche modelli interessanti e potenzialmente rilevanti anche per altri ecosistemi. Dobbiamo ricordare allo stesso tempo che le popolazioni montane sono tra le più vulnerabili del mondo e spesso vivono in estrema povertà. Bisogna quindi mettere in atto alle politiche mirate a migliorare la gestione delle montagne e a garantire accesso ai servizi e risorse, promuovere l'investimento e rafforzare il livello di resilienza delle comunità locali in mondo tale che possano continuare a fornirci non solo acqua, legna, cibo, energia e altre risorse ma anche trasmetterci modalità economiche e sociali alternative e intelligenti per il nostro futuro. E resta unicamente invitarli al prossimo Comitè Forestale della FAO che sarà qui alla ultima settimana di giugno. e molte grazie per la sua attenzione.